Al Via Liter per la realizzazione dei due nuovi impianti di compostaggio aerobico a Cesano-Steria Nuova, 15esimo municipio, e a Casalselce, 13esimo municipio, grazie ai due nuovi centri di compostaggio sarà possibile trasformare a chilometro zero gli scarti alimentari ed organici provenienti dalla raccolta differenziata dei quadranti limitrofi. All'interno delle strutture previste aree verdi, orti urbani, centri di riuso creativo, isole ecologiche. I turisti stranieri che hanno visitato Roma se ne innamorano e sono pronti a consigliarla tra le mete da visitare. Lo rivela un'indagine dell'Ipsos sulla percezione della città condotta tra i turisti dei tre paesi più rappresentativi per il mercato turistico capitolino, Stati Uniti, Germania, Giappone. Nove turisti su dieci esprimono una valutazione positiva della visita a Roma e quasi nove su dieci dichiarano che consiglieranno una visita nella città. Inaugurato il Giardino dei Giusti della Capitale in una delle zone più suggestive di Villa Doria Panfili. In occasione della giornata europea in memoria dei giusti sono stati messi a dimore i primi cinque alberi in onore delle personalità insignite del titolo di giusto. Un luogo che diventa simbolo di memoria, di pace e speranza.